130 residenti del Molise hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto falsificando in molti casi la documentazione fornita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per una presunta truffa da un milione di euro ai danni dello Stato. E il risultato dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Campobasso nell'ambito degli accertamenti sul comparto della spesa pubblica svolti con l'analisi e il riscontro dei dati. Sono state passate al setaccio centinaia di autodichiarazioni incrociate con le banche dati. Il lavoro delle fiamme gialle ha permesso di scoprire e segnalare all'autorità giudiziaria 130 persone che non avevano i requisiti previsti dalla legge per accedere al sussidio. Molti dei percettori del contributo statale risultano svolgere un lavoro in nero. Ci sono poi gli stranieri che non hanno i documenti necessari alla permanenza.